Il potente dottor Castroni Petroli illustra fiero i suoi averi a dei modesti impiegati appena assunti. Ecco, irrompe lui, 12 ettari di terreno edificabile, 7 grattacieli, base da terraggio per elicottero, 14 automobili serie limitata e per finire è meglio che andiate a sgobbare, altrimenti vi licenzio prima ancora di avervi assunti. Uno degli impiegati, un dignitoso architetto, gli porge la mano incassando la battuta e sfoggia un sorriso bianchissimo. L'imprenditor Castroni Petroli, per tutta risposta, irrompe con una robo anti-risata, mostrando due denti marci e sei otturazioni in argento. Malessere